Il confine sembra spaccare a metà l'opinione pubblica, da una parte il diritto sacrosanto di chi vive in un quartiere a vivere serenamente, la sera e nei fine settimana, dall'altra il diritto a divertirsi, rivendicato da chiunque voglia concedersi qualche ora in compagnia. Ci vorrebbe un punto di sintesi, ma le cronache dicono che non è così. Vivere in un quartiere aperto per vocazione al grande pubblico non è facile tra questioni di decoro, con i rifiuti abbandonati a terra e le altre spiacevoli conseguenze di tanti giovani e visitatori in giro ogni sera fino a tarda notte, per parecchi mesi all'anno, problemi di vicinato o anche di mobilità. Sono gli effetti collaterali della Movida, importante per l'economia di ogni città, ma in particolare per quelle a vocazione turistica. Chi vive lì lo sa, ma d'altro canto rivendica anche il diritto a poter riposare la notte, oppure a poter scendere in strada per fare una passeggiata senza rischiare di essere travolti da orde di giovani spesso alticci. I comuni fanno quello che possono a suon di ordinanze, che però spesso restano disattese anche perché difficili da attuare, e di weekend in weekend la cosiddetta Malavoida continua ad avvelenare il clima delle nostre città.